Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Beressere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo di cicale. Ascolti questo suono di cicale che c'è di sottofondo? Beh, le cicale sono ipnotiche ragazzi, ipnotiche. Prova a rilassarti al suono di cicale e vedrai che cosa ti succede. Oltretutto immagina, visualizza, ripetiti delle parole a tuo vantaggio, mentre sei ipnotizzato, ipnotizzata, magari coricato accanto ad un trullo, oppure ad una pagliara, o in campagna accanto ad un albero d'olivo, cullata e ipnotizzata da questo bellissimo suono delle cicale. Un tempo esisteva il suono delle sirene, se ti ricordi, nel famoso viaggio di Ulisse ad Itaca, eccetera, eccetera. Anche le cicale hanno un effetto ipnotico sulla mente, sul nostro subcosciente, sul nostro 88% della mente, perché sono ancestrali, risalgono a secoli e secoli fa e rilassano come la ninna nanna, ok? Non credere a me, prova, rilassati al suono delle cicale che trovi soprattutto in campagna e poi visualizzi, immagina il meglio per te, quello che ti può cambiare la vita e se lo ripeti, lo ripeti, lo ripeti, diventa realtà, senza ma e senza se, non credere a me, fai, fai, fai. Bene, fammi tutte le domande del caso, se hai qualche dubbio, visita la mia fanpage su Facebook, Ipronosi e Ipronosi del Dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, clicca sulla campanella benessere ipnosi soluzione di CS del Dottor Claudio Saracino, benessere ipnosi soluzione del Dottor Claudio Saracino, scusami, e condividi magari questi video con amici, parenti, conoscenti, perché può essere quel quid che gli cambia la vita, e visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere ipnosi soluzione di CS del Dottor Claudio Saracino, nel prossimo video, un bacio, un abbraccio.